Non sono ancora stati ritrovati i corpi di Caloggio e Giuseppe Carmina, padre e figlio, gli ultimi due dispersi dell'esplosione avvenuta a Ravanusa sabato sera, in cui sono morte sette persone. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte, rimuovendo le macerie di quello che era l'appartamento del padre, ma dei corpi dei due non c'è traccia. Si continuerà dunque a scavare per rimuovere le macerie e arrivare al livello della strada. Non è escluso infatti che i due potessero trovarsi proprio lì, al momento dell'esplosione. Mentre i vigili del fuoco continuano a scavare tra i detriti per recuperare gli ultimi due dispersi della strage di Ravanusa, in procura ad Agrigento gli inquirenti, che hanno aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo al momento contro i gnoti, lavorano sotto traccia con l'obiettivo di dare una risposta il prima possibile alle famiglie che piangono i morti e a quelle che hanno perso le case ridotte in macerie dall'esplosione, che ha sconvolto questo paese di poco più di 11.000 abitanti. Dalle prime verifiche i carabinieri che indagano su delega della procura avrebbero appurato che cinque giorni prima della strage ci sarebbe stato un intervento di manutenzione ordinaria sull'impianto. Controlli pare che non avrebbero evidenziato alcuna criticità. Adesso si dovrà acquisire il verbale di intervento per verificare chi abbia materialmente eseguito il collaudo e se sia stato fatto a regola d'arte. Documenti saranno acquisiti alla Italgas, la società che gestisce la rete e nelle ditte subalpaltatrici a cui vengono affidate le manutenzioni. Saranno sentiti dunque anche i tecnici che hanno effettuato quei controlli. Per tutta la giornata di ieri invece sono stati ascoltati decine di abitanti della zona ma anche i tecnici per cercare riscontri alla voce sostenuta anche da un consigliere comunale in base alla quale nei giorni scorsi si sarebbe sentito un odore di gas fortissimo proprio nella zona in cui poi c'è stata l'esplosione.